Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. R. Kelly, l'ex star dell'OEB, ha ricevuto una condanna senza precedenti di 30 anni per abusi sessuali che hanno scosso l'industria musicale e ha fatto scalpore nel movimento Me Too. Il cantante, noto per brani come I Believe I Can Fly, è stato riconosciuto colpevole di aver adescato donne e bambini e di aver orchestrato una rete criminale a Chicago. Sottoponendo le sue vittime ad abusi sessuali e psicologici per oltre due decenni. La sentenza è stata una pietra miliare nel processo di rendere giustizia alle vittime di abusi sessuali e nel dare voce al movimento Me Too. Durante il processo sono emerse centinaia di prove, tra cui testimonianze scritte, video e registrazioni audio, che hanno svelato l'orrore a cui R. Kelly e i suoi complici sottoponevano le sue vittime. L'accusa ha descritto R., Kelly come uno stupratore seriale e un predatore che manteneva un controllo assoluto sulle sue vittime, utilizzando ogni trucco possibile. Nonostante la sua squadra di avvocati abbia cercato di mitigare la sentenza, invocando gli abusi che il cantante stesso avrebbe subito durante l'infanzia. La giuria ha emesso un verdetto severo. Le voci delle vittime hanno finalmente avuto modo di farsi sentire durante il processo. Sette donne hanno testimoniato, molte delle quali in lacrime, condividendo il loro dolore e le conseguenze devastanti degli abusi subiti. Lizette Martinez, una delle vittime, ha raccontato la sua battaglia continua con problemi mentali causati dagli abusi subiti. Kelly è stato descritto come un pifferaio magico che utilizzava la sua fama e il suo denaro per adescare e sottomettere minori ai suoi desideri sessuali. Le testimonianze delle vittime hanno svelato un quadro inquietante di manipolazione e coercizione. La sua relazione con la defunta cantante Alia, che aveva sposato quando lei aveva solo 15 anni, è stata un elemento cruciale nel processo. Kelly aveva prodotto il suo album e aveva cercato di nascondere il matrimonio con un documento falso. Questo caso ha evidenziato ulteriormente il comportamento deplorevole del cantante. La sentenza di 30 anni è stata accolta come una vittoria per le donne afroamericane che hanno dovuto affrontare gli abusi di Kelly. Il suo caso ha attirato l'attenzione su un problema che è stato a lungo ignorato e ha contribuito a una maggiore consapevolezza sui diritti delle donne e sulla necessità di affrontare il potere. Degli Aguzzini. Nonostante la sua carriera di successo e la vendita di milioni di dischi in tutto il mondo, R. Kelly è ora ricordato come uno dei simboli degli abusi sessuali nell'industria musicale. La sua condanna segna un punto di svolta nella lotta per la giustizia e per un cambiamento culturale che metta fine all'impunità dei predatori sessuali. Non perdere le prossime novità. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella.